Qualificazione alla prossima edizione di Europa League, non dipenderà soltanto da noi ma anche dai risultati di Atalanta e Roma, noi però dovremo assolutamente vincere. Via si parte, è iniziata Udinese-Juventus, l'ultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Adesso sulla pressione di Quadrado deve tornare all'indietro da Silvestri che sbaglia tutto, Miretti entra in area, ancora Miretti, prova ad andare via. Ora parte Juan con il destro, ci mette la manona Silvestri, Calciodan, Chiesa, Milik, siamo già dall'altra parte, ancora per Chiesa, Chiesa! Palone verso Milik, poi Bonucci, traversa piena della Juve. Finta di Samarzic, poi Lovric va a trovare Toven, che ci prova, Sistro secco. La Juve che attacca con Miretti, che prova lo spunto su Arslan. Grande imboccata per Rabiot, poi Quadrado lascia scorrere, Milik per Rabiot, Rabiot, Rabiot! Con il destro sul primo palo, Bonucci in anticipo su Toven, poi da terra Locatelli, Quadrado, ancora va via, Quadrado, carica il destro, Quadrado! Gran movimento di Locatelli per Chiesa, Chiesa in area, Chiesa! La piazza, Federico Chiesa, secondo, gol in campo! Andiamo a rivedere tutta l'azione, grande fraseggio della Juve. Bel movimento di Locatelli, che libera Chiesa nell'angolino tra il palo e Silvestri! 1-0! Samarzic, Arslan per Lovric, prova a prendere coraggio e reagire l'Udinese. Con Lovric in zona, tiro, ci prova! Si allunga sulla sua destra! Chiesa e Chiesa, defilato anche Milik, pallone ancora per Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria! Contra in area di rigore, pallone al centro per Nestorovski! Oggi è, che torna lì indietro ancora da Lovric, poi Perez, pensa alla conclusione, la fa partire! Un siluro di Newell Perez! Ma non c'è più tempo, la Juve vince! 1-0 alla Dacia Arena di Udine!